Siamo con Luzio Spatafo, da quanti anni segui la Pro? 5-6 anni? No, 30 anni. Qual è la più bella Pro che hai visto? Nell'ultimo tempo, dalla Serie B. Come giudichi il campionato di quest'anno? Molto duro, molto duro perché sono tante belle squadre e quindi ci sono delle difficoltà per salvarsi anche. E la Pro di quest'anno? Penso un po' meglio. Qual è il giocatore simbolo della Pro di quest'anno? Macri. È Torino. Ci salviamo? Ma io spero di sì. Quanti punti facciamo nel giorno di ritorno? Spero di farne almeno 20. E a Frosinone? Un pareggio. Cosa è capitato in queste ultime due partite? Cosa non ha funzionato? La gambe o la testa? Di più. Secondo me le gambe. Le gambe. E poi mancando anche i marchi davanti ho avuto fatto dei problemi del personale. Chi ti ha impressionato di più dei nuovi arrivi di gennaio? Luppi. Luppi. Il giocatore che ti è rimasto impresso di più da quando segui la Pro. Sì! Cammino. Cammino. Tonelli. Dicono Tonelli. Tonelli. Tonelli, Mirabelli, Cavagnetto. Mirabelli. Mirabelli. Miragol. Miragol. Forza Pro. Forza Pro. Forza Pro. Forza Pro. Forza Pro. Forza Pro. Grazie.